La Giunta ha approvato e trasmesso al Consiglio Comunale il piano triennale per le comunicazioni elettroniche che in parole povere sarebbe il cosiddetto piano antenne, cioè il piano che collocherà attraverso una variante nel PRG l'organizzazione di quella che è la telefonia mobile o più precisamente di quelle che sono le installazioni di telefonia mobile. Un atto importante perché vedrà integrate le attività di pianificazione edilizia con l'individuazione dei siti idoni ad ospettare installazioni di telefonia mobile ed è importante perché rende più forte l'autorità comunale in sede di autorizzazioni e consentirà soprattutto al Comune di Fano di indicare quelli che sono i luoghi e i siti ritenuti idoni per queste installazioni. In questo modo il protagonismo dell'ente locale aumenta e c'è la possibilità nel percorso che porterà la variante anche di migliorare questo piano perché abbiamo previsto la possibilità per associazioni, cittadini e comitati di dare indicazioni e suggerimenti per eventuali integrazioni. Questo nell'ottica ovviamente di poter migliorare con questo piano quella che è la tutela dell'ambiente e della salute della popolazione.